Ok raga allora adesso vedete un po' di casino qua perché sto preparando la borsa per domani che si va a girare la campirola E volevo farvi dire soltanto quando uno deve andare soltanto un giorno a girare Deve preparare tutta la borsa Scarpe, sporchi come non so che cosa Mascherine e tutto il resto Deve preparare tutto E te c'è un casino di roba, non so dove metterle Aiuto, ci vediamo domani Ok raga allora è passato un giorno per cui ieri sera stavo facendo la borsa Oggi sono già su, oggi ho girato un po' stamattina, adesso ho mangiato e adesso sono qua di nuovo E in teoria oggi si chiude il road gap forse Allora adesso vi mostro un po' perché voi non ci siete mai stati qua a Caldirola Comunque ci sono tante piste, tanti drop E ce n'è uno molto che è il più alto che io vorrei farlo Mi sono aggregato a un gruppo e si spera che oggi riesco a fare quello e che non muoio Si spera soltanto quello Vai ci vediamo No vediamo Non so, io non so, io non so, io non so, io non ricordo Ma voglio qualcuno Non so Ah no, non so No, io non so Oh, c'est un pape, c'est un pape, c'est un pape, c'est un pape. Oh, c'est un pape, c'est un pape, c'est un pape, c'est un pape. Ma Marco è tu, fai il salto. Oh, l'albero! Oh, l'albero! Oh, c'est un pape. 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 Sì 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 Guardate che roba Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.